Quando sono partito da Firenze non ho ripreso molto, ho fatto foto perché fra salite freddo e acqua, non è che ho pensato molto a fare delle riprese, vedremo oggi a Perugia perché c'è un nero sempre più nero, ho preso solo da quando sono partito, freddo alternato ad acqua, forse un paio di giorni di sole, non male, non male. Spero che Perugia sia sul lato destro che c'è, come si dice a Bergamo, l'escharu d'acqua. Un'altra manifestazione che dice che la pandemia non esiste, è straordinario come in Italia ogni deficiente può andare in piazza e raccontare cassate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.